Il pareggio col Cus Palermo dopo comunque una prestazione del Canicati che conosciamo, ormai siamo abituati a conoscere, ecco quando però la palla non vuole entrare non entra, ci sono state diverse occasioni, la squadra gioca bene, c'è qualche contestazione però la squadra è sempre seconda, quattro punti. Sì, siamo in linea con i programmi d'inizio stagione, magari domenica non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite però siamo riusciti a raggiungere seppure in maniera un borro cambolesca il pareggio al 97esimo, lo prendiamo per buono, è un risultato utile che ci fa continuare la serie utile di risultati positivi e come dicevo siamo in linea con l'obiettivo dell'inizio del campionato. Sicuramente un secondo posto in classifica a metà del giornale di andata è da prendere con molto diciamo piacere, con molta soddisfazione. Soprattutto perché il Canicati è anche in corsa per quanto riguarda la Coppa, domani ci sarà la gara di andata per dei quarti di finale, ci sarà l'Alba Alcamo squadra che già il Canicati in campionato ha affrontato e battuto. Sì, domani giochiamo alle 14.30 presso lo stadio Saraceno di Ravanusa contro l'Alba Alcamo per la partita dei quarti di finale della Coppa Italia. L'altra competizione che il Canicati sta disputando, si è già qualificata, ricordiamo in passato che ha anche battuto una squadra forte come Licata e quindi questa competizione per noi diventa come dicevo qualche settimana fa un'altra opportunità, quella di aspirare a fare il salto di categoria e eventualmente anche da una porta diversa rispetto a quella che potrebbe essere la vittoria del campionato. Ove, i valori si stanno cominciando a definire, c'è una squadra che in questo momento sta dimostrando di essere una squadra molto attrezzata, molto forte, peraltro lo era già sin dall'inizio del campionato, e 3-4 squadre che da dietro inseguono e che praticamente diranno la loro per il proseguo del campionato. Tra queste c'è il Canicati che non vuole sicuramente abidicare al ruolo di protagonista di questo campionato, questo è l'intento del presidente Angiolicata in prima battuta e anche di tutta la società.